Il patron del Monza, Silvio Berlusconi, è stato ricoverato al centro cardiotoracico di Monaco, ospedale specializzato del Principato. A decidere il suo ricovero per un problema cardiaco aritmologico è stato Alberto Zangrillo, suo medico di fiducia. Berlusconi si trovava a Valbon, la località vicino a Nizza, dove ha trascorso anche gran parte del lockdown. Grave infortunio per Diego Perotti. L'attaccante del Fenerbahce è costretto a chiudere la stagione in anticipo a causa di un grave problema al ginocchio, per cui probabilmente ora dovrà subire un'operazione. C'è stata una rottura quasi totale del legamento del ginocchio del giocatore, ha bisogno di un intervento chirurgico. Ha comunicato il DS del club Emre Belosoglu, che poi ha spiegato Se ci sarà un intervento, Diego dovrà restare fermo da 5 a 8 mesi e questo lo deciderà lo staff medico. Lo stop di Perotti non avrebbe conseguenze solo per il Fenerbahce. L'accordo stipulato con la Roma al momento del trasferimento prevede la partecipazione della società giallorossa nel pagamento dello stipendio del calciatore in base alle presenze, con l'impegno a salire per il Fenerbahce ogni 5 partite giocate. Ciò significa che il futuro del centrocampista argentino influirà anche sulle casse della Roma. La Lazio rende nota la variazione all'interno dell'elenco dei calciatori over 22 utilizzabili nelle competizioni Lega Serie A, mediante la quale Senat Lulic prende il posto di Davan Lorenzo Anderson. È con questo comunicato, pubblicato sul sito della società, che il club bianco celeste sancisce ufficialmente il ritorno del suo capitano. Dopo tre operazioni e quasi un anno di assenza dal campo, ultimamente Lulic aveva ripreso ad allenarsi con il gruppo. Il problema alla caviglia sembra quindi praticamente superato e il centrocampista è pronto per un nuovo inizio. Chissà che Simone Inzaghi non voglia già convocarlo per il derby di domenica, non per farlo giocare ma per tenerlo in panchina e dare speranza e supporto al resto dei compagni. Charles Leclerc è risultato positivo al coronavirus. A dare l'annuncio è stato lo stesso pilota della Ferrari che tramite Twitter ha aggiornato i suoi fan riguardo il suo stato di salute. Volevo farvi sapere che sono risultato positivo al Covid-19, scrive Lemone Gasco. Seguo regolarmente i protocolli del team. Sfortunatamente ho saputo di essere entrato in contatto con una persona positiva e mi sono messo subito in auto isolamento. Ho avvertito tutti coloro con cui ho interagito e il successivo tampone è risultato positivo. Mi sento bene e ho sintomi lievi. Resterò in isolamento nella mia casa di Monaco e seguirò tutti i protocolli previsti da Monte Carlo. Questo è il messaggio di Leclerc sui social.